e benvenuti questo è l'episodio di DRAGON BALL BUDO KACHE KACHE 2 quindi ragazzi vi auguro una buona visione ok Vegeta, ora è il tuo turno, non lo sai con chi stai affermando ok, prima uso... beh, quella è la vingetta, si dai, per primo e l'ultimo vabbè, il totale di livello 85 contro 140, sempre a livello 3 ragazzi di difficoltà mh c'è un attacco, va? ahia, mi ha spattato la difesa questo non mi aspettavo ma avrei dovuto, eh dai, cazzo fallo che bravo meccati in pieno è un attacco è un attacco è un attacco E' già morta Vai vedete resisti Ma perché credo il pizzo tizzi l'acqua? Eh... Sono due di vita io cotto Ok, è uguale le tacche distanza E questo va proprio a caso mio Che toglie anche tanto la distanza Da lontano Per paura, beccati questo! Da vicino E' forte, da lontano che... E' facile Vieni a che lontano... Vieni aiuto! Si Via 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 Eh... Molta suprema E' una sorta di vantaggio Di vantaggio Vieni aiuto! No! Un... 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 Un momento! Un... 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 aspetta che si premo si forse ho diviso non lo sono sicuro no infatti con un po' di grazia no questo è un po' di grazia ora l'ho battuto in 4 minuti 28 secondi mi sono voluti vegeta è l'unico a livello 35 beh suppongo che con lui l'ho avvicinato l'ho avvicinato da vicino ha avuto più esperienza da congo da lontano vabbè not even worth my time look a shit it's goku si si è pronto è pronto ok l'ho avvicinato l'ho avvicinato l'ho avvicinato se lo sbaglio poi con l'energia sferica vinco di sicuro si si come vuoi per di carota ok ok goku vizieta dubito che userò vizieta questo scontro sconvito quello che voglio che mi basterà solo goku per vincere ma se per goku dico io la tutta la vita che si è pronto per questo ora meglio su questo spazzo da carota buon raggio buon raggio buon raggio buon raggio vabbè come dicevo buon raggio buon raggio qui che mi freddo Io e io, che dia sferica! Brudda, riparo! Mi chiede di questo cagliotello! Ah, ma adesso siamo in parità, eh! Oh no, quello qui non eravamo! Eeeh, è in vantaggio! Non è proprio l'entia sferica, però... No, devo qua aspettare! Perché sono un po' distante... Ecco, ho fatto girare quella agenda del drago! Io quando... Sì, dai, sono pronto! Non devo farla, eh! Via, vai su, e poi vai su! Dai, mi riempi la schiena! Sì, dai! No, no, no! No, no, no! Dai! Dai cavazzo Te l'ho fatta Sono un grande Ancora un po' che sarei morto Ma come vi ho detto Non è stato bisogno che usassi Vegeta E ho avuto ragione Ok adesso Ah adesso è uno contro due Risca bene Di fondo Parter è veloce Mentre Giz Direi che uno è equilibrato Guarda se la posso fare Ah ecco lui è venuto con gli attacchi Ah di risistenza ce la puoca Bella rossa Aiuto E' atterrato Ah perso Vabbè riprovo va Ah ok Becco 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 tutti E' impossibile beccarli tutti Ok Andiamo un attimo a una cosa Allora Ah Vedete adesso posso anche Ombettare Quali blocchi Un po' Solti due Perfetto Ok Ok Hanno pulito Beh Vitalità Direi Ancora Difesa Velocità Quindi è velocità Come se Ecco Allora Allora Che Oris Beh ma forse era meglio che stavo a 36 che dite vabbè dattimo quali consiglio nella prossima puntata ok per la prossima dovevo dire o come che è così un volo riscontrovato ora lì è fatto avantiare ah 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 che cazzo cos'è va adesso credo che cuglia fammi arrabbiare ooo la Ma dovresti farlo da io che mi spavio volerci a? E' ricco fatto! Così siamo pari E adesso tocca all'altro Fatto il volo Vedi che i personaggi hanno le mosse un po' uguali Eh... Certo che a casa del gioco non bisogna fare le mosse... ...e dei personaggi, uno che posso dare l'altro, no? Un po' tutte uguali Corco è... Lentina sferica! Via! Ha... Ha mancato Di che ho preso però ho davvero dato il pianeta Fantastico Una cosa veramente positiva, eh? E' più un peccato Allora è doppiamente positiva Oh Goku E' ricco io, eh? Eh... Cos'è? C'è di dormire sugli allori? E ho perso anche questa volta, e ho perso Eh... Cos'è? Io avevo con... Quel... Con... Cosa di... Eh... Ziz... E poi... Io riprovo lo batto... Eh... Eh... E poi mi batte... BULTER Cos'è? Adesso ho... Ripos... Ripos... Riposuto i due adesso? Eh... Non li vedo, eh? Vabbè, comunque i colpi... Un po' a raffica funzionano Ah... Non mi ricordo come un'inviata fresca Ah... Non mi ricordo come un'inviata fresca Ok... Non dovevo tutta il triangolo Ok... Non dovevo tutta il triangolo Eh... Che è stupido Però Fabio il danno... E' anche grosso Si vede che con quel colpo Ha solo un... Ha solo un danno su attacco Veramente... Stupido Nooo... Sono brigato Ok... Ok... Nooo... La difesa! Beh, fai un colpo, dai Non dai grave Ok, devo impararmi Da qualche parte La 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 Oh... Sì, si amato Eh... Però... Ho poche possibilità di iniziare adesso Adesso se faccio così forse Posso un corno Vabbè, ragazzi Faccio una cosa Mi vado a allenare Così almeno aumento un po' il punteggio di... Il livello di Goku, eh Quindi ragazzi Vediamo ora la prossima puntata di Dragon Ball Un giocante Cazzo in due E vi assicuro che Metterò a tappeto questi buffoni l'escritto di Per l'escritto di Corte Forti... Escritto di Erick